Ci sono persone nate per lottare e non piegarsi mai, anche quando sembra che tutto sia davvero troppo. Ci sono persone che prendono ogni difficoltà con il giusto spirito, trasformandola in una nuova occasione per crescere. Quelle persone sono nate per essere nel nostro cuore. Queste persone sono i nostri ragazzi e con loro siamo tornati a sognare, a testa alta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!